Bene, benvenuto allora al Vescovo Massimo, benvenuto a Reggio Emilia che da oggi sarà la sua città. Prima di lei ci sono arrivate le sue parole, sono state parole che hanno alimentato la nostra attesa, che è visivamente rappresentata dalla grande folla che la sta attendendo e anche il desiderio di poterle incontrare. Lei si è rivolto alla comunità della Chiesa Reggiana con il desiderio di conoscere i sarcedotti gergiani uno a uno, anticipato alla città che sarebbe venuto come amico, che sarebbe venuto per ogni uomo e per ogni donna e ancora ci ha detto in laterano, con emozione, nelle sue prime parole, non ti condanno. Parole di speranza per l'uomo anche che ha bisogno di consolazione. È uno stile che apprezziamo e in cui risuonano gli ecchi a noi cari presenti nella storia di Reggio Emilia, i cui simboli sono proprio qui, in questa piazza. Nella Sala del Tricolore alle nostre spalle, in cui quattro distinte identità e individualità, quattro città si unirono per un obiettivo comune di libertà, di fraternità e di uguaglianza nella Repubblica Cispadana. Un luogo, la Sala del Tricolore, che è la sintesi della storia della città, medaglia d'oro della Resistenza, patria dei Costituenti Giuseppe Dossetti, Nilde Iotti e Meuccio Ruini. Poi abbiamo l'ex Monte di Pietà, oggi sede della Fondazione Manodori, che rappresenta l'attenzione al prossimo, nato nel Cinquecento dai monaci Francescani, per sostenere le classi sociali deboli. E ancora ci sono le farmacie comunali riunite, nate dal municipalismo di primo novecento e dal riformismo socialista e prampoliniano, che ha dato una forte impronta cooperativa alla nostra economia, che si preoccupò in primo luogo di sostenere i poveri malati e bisognosi, con la consapevolezza che il miglioramento delle condizioni di vita delle persone più povere era un obbligo, oltre che un beneficio, per tutti. E naturalmente siamo qui, nella bellissima restaurata cattedrale, in cui lei oggi entra, e nell'esperienza della Chiesa Reggiana ed Emiliana, ricca di carità, di doni, di opere. E soprattutto, sopra a questa entrata, c'è la Madonna che ci protegge, in cui credo che lei poco fa abbia chiesto la benedizione per questa nostra città. Al centro di questa cornice, la piazza, il mercato, il frutto del lavoro, la relazione, l'incontro tra le persone, lo scambio non solo di beni, ma di idee e di conoscenza. Uno spazio pubblico in cui crediamo come città, perché che sia una piazza, un teatro, un museo, una biblioteca, lo spazio collettivo mette a disposizione la bellezza e le opportunità per tutte le persone. Crediamo negli spazi pubblici come spazi di relazione e di identità, in cui la città diventa comunità di persone. Le persone una a una come individui, ma anche come parte di una comunità. Queste sono al centro del nostro lavoro, sono sicuro, saranno al centro del suo lavoro. Siamo impegnati insieme perché Reggio Emilia possa essere una città che crede nell'intelligenza e nella compassione per risolvere i problemi della comunità. Ci ha anticipato il suo desiderio di attenzione ai giovani, alle famiglie, agli anziani. Abbiamo una trasformazione sociale molto intensa a Reggio Emilia, una grande quantità di anziani, giovani che si cimentano col problema del lavoro, che anche adesso a Reggio Emilia sta diventando un problema enorme, con più di 28.000 disoccupati a livello provinciale. Credo che lei quindi abbia individuato già bene ciò di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di educazione, di cultura, di convivenza. Non ci rassegniamo, Monsignor Vescovo, ad aspettare il nostro futuro. I reggiani sono tenaci, vogliono agire perché ci siano più giovani laureati, più opportunità di lavoro, perché nessuno rimanga indietro in questa nostra amata comunità. Il problema del benessere della città non è il problema del sindaco, del vescovo o delle istituzioni. È un problema che riguarda tutti. E ciascuno di noi come cittadino ha il diritto dovere di farsi carico e di restituire cura e attenzione, così come l'ha ricevuta. E da anni noi stiamo cercando di lavorare per la tenuta e la coesione della città, contrastando la tendenza all'isolamento delle famiglie, organizzando punti di riferimento e di collaborazione nei quartieri, naturalmente con grande fatica e impegno, ma anche con importanti segni di ripresa. E in questa azione di rinnovamento, di rivivificazione delle nostre comunità, le parrocchie con la loro attività sono uno dei perni su cui si basa la nostra città. In questo impegno e lavoro di rete per l'istituzione pubblica che rappresento e per la città, il ruolo della Chiesa cattolica reggiana è imprescindibile ed è uno dei pilastri su cui si fonda la tenuta della città. È un dono come un dono è il suo Vescovo. Dalle scuole FISM alla Caritas, intorno a cui siamo impegnati per l'emergenza freddo, dalle mense del Vescovo, dalle case di carità di Don Mario Prandi, dall'impegno dei servi della Chiesa. Ecco, c'è una Chiesa reggiana vivissima. Per questo io auspico che potremo continuare a approfondire quella collaborazione nel rispetto delle reciproche autonomie che caratterizza da decenni Reggio Emilia, con i Vescovi Baroni, Gibertini e Caprioli, che ricordiamo con stima e riconoscenza e con l'affettuosa presenza del Cardinale Ruini. Noi stessi, come lei ha detto rivolgendosi ai sacerdoti reggiani, siamo interessati ai cittadini reggiani uno a uno. La città del tricolore è anche la città dei cento linguaggi differenti, cioè del riconoscimento della diversità come valore. E noi crediamo molto in questo concetto. E mi è venuto in mente, per la sua accoglienza, visto che lei ha fatto riferimento a Don Giussani, mi è venuto in mente che il Cardinal Biffi, nell'87, durante il congresso eucaristico di Bologna, chiamò a parlare Don Giuseppe Dossetti e proprio Don Giussani. E disse perché nella Chiesa, così come nella società, troppo spesso vi sono polemiche inutili. Invece bisogna imparare a guardarsi negli occhi, a comprendersi, a capire che la diversità è una ricchezza, nella Chiesa come nella società. E il Cardinale diceva, dopo averli fatti incontrare, ho lasciato Giussani e Dossetti soli per tre ore. E poi ho visto Don Giussani uscire commosso, perché aveva visto che Don Dossetti aveva inserito anche la sua comunità nelle intenzioni di preghiera costanti. Ecco, credo che questo dialogo, questa capacità di riconoscere la diversità, possa essere una delle caratteristiche di questa nostra comunità. Nelle persone, in questa piazza, nel gonfalone comunale, dove noi abbiamo i Santi Crisanto e Daria, due sposi, e anche la Beata Vergine della Ghiara, in tante immagini che accompagnano la storia di questa comunità. In queste immagini la Chiesa e la città si incontrano in un rapporto di autonomia, di collaborazione, di rispetto che ha reso questa comunità, almeno per noi, unica. Grazie allora per averci in un qualche modo già scelto, dicendo il suo sì a questo mandato, e di nuovo benvenuto in questa città. Anche per il freddo io sarò breve, ma sarà molto sentito quello che le dirò. Benvenuto fra noi, caro Monsignor Camisasca, Vescovo di Reggio Emilia. Ogni donna e ogni uomo reggiano l'accoglie come amico. Siamo certi che il nostro benvenuto sia il benvenuto di tutti i reggiani. Reggio Emilia è, per tradizione, una terra ospitale, che ha fatto e fa dell'accoglienza uno dei suoi tratti distintivi. Lei troverà nei reggiani, credenti e non credenti, menti aperte e cuori pronti ad ascoltare il suo messaggio. Troverà donne, uomini e tanti giovani disponibili ad impegnarsi per gli altri, per il bene della collettività. È questa, da generazioni, la forza della nostra terra. È questo lo spirito che l'anima, cioè mettere le scelte comuni davanti a quelli individuali. La chiesa ed il suo Vescovo, come ci dimostra la storia di questa diocesi, ne sono parte essenziale. Qui troverà una realtà vivace, animata da un forte senso della comunità. Una provincia dove il lavoro di tanti e una fitta rete di servizi messi in opera dagli enti pubblici e dall'associazionismo hanno saputo creare condizioni di benessere diffuso, dal Po all'Appennino. Ma ora questa terra è costretta, come tante altre, a fare i conti con le difficoltà determinate dalla crisi economica che colpisce soprattutto i più deboli. Ella, da oggi, è pastore di una terra ricca di fascino, di storie e di tradizioni che tanto ha dato al nostro Paese per affermare i valori fondamentali come la libertà e la democrazia e che è impegnata in ogni sua articolazione a cercare un futuro dignitoso e di pace. Ella è il nuovo pastore di un popolo pragmatico e concreto, doti che chi ha saputo fondare una comunità di missionari oggi presenti in quattro continenti sono certa apprezzerà, ma anche è un popolo generoso e solidale. È diffusa in tutta la nostra società una cultura che mette al centro l'uomo nelle sue molteplici espressioni. Qui è nato lo spirito cooperativo e qui sono ben saldi i valori del lavorare insieme, dell'aiutarsi a vicenda, del condividere fatiche e soddisfazioni. Qui si è sviluppato un meraviglioso sistema di associazionismo e di volontariato in grado di aiutare chi ha bisogno di fronteggiare al meglio le emergenze. È stato il caso dell'ultimo terremoto che ci ha così duramente colpiti. Noi abbiamo fondato gran parte del nostro impegno sul rispetto della persona e dei diritti che ciascuno ha, indipendentemente dall'estrazione sociale, dal credo politico e religioso, dal colore della pelle. Nessuno in questa terra si deve sentire solo. Su questo fronte la Chiesa reggiana si è sempre dimostrato un interlocutore attento, sensibile, pronto alla collaborazione e siamo certi che continuerà ad esserlo. Anche questa crisi economica, io credo, potrà essere superata solo se sapremo non rimanere chiusi in noi stessi, se non ci arrenderemo alla paura, se non diventeremo incapaci di parlarci. Questa comunità non deve sfilacciarsi e disgregarsi perché questo significherebbe avviarsi verso il declino. Non dobbiamo chiuderci in noi stessi, ma aprirci. Più allargheremo il sacco, più riceveremo, ci ricorda Sant'Agostino. E l'aiuto che a nome dei reggiani mi sento di chiederle è dunque quello di sostenere la nostra comunità a continuare ad aprirsi, tenendo ben salde le regole del vivere civile apprese dalla Costituzione dell'Europa democratica con il suo carico di storie, di cultura e di lezioni apprese dalle tragedie che l'hanno attraversata. Il 2013 è stato dichiarato dall'Unione Europea anno dei cittadini europei con riferimento ad un patrimonio di diritti e di doveri unici nel panorama globale. Dentro quel patrimonio vediamo la possibilità di collaborare in maniera proficua per la costruzione di una società più buona e giusta, come ella ha voluto ricordarci nella sua prima lettera alla diocesi di Reggio Emilia e Guastalla, rivolgendo ogni possibile sforzo per aiutare i giovani, le famiglie e chi vive solo a partire dagli anziani e per sostenere i malati, i poveri innanzitutto. Benvenuto fra noi, in fraternità e in amicizia, Monsignor Camisasca, con l'augurio riprendendo le parole di Giovanni Paolo II, che tanta importanza hanno avuto nel suo cammino di essere venuto qui a Reggio Emilia a portare la verità, la bellezza e la pace. Benvenuto, davvero. Carissimo signor sindaco, carissima signora presidente della provincia, già dalle vostre parole dei vostri discorsi, ho capito che se forse per il mese di dicembre Reggio è una città fredda, i reggiani sono caldi, sono vivi, sanno esprimere con molta forza e convincimento ciò in cui credono e che vivono. Grazie, perché mi sono sentito subito a casa mia. Vi ringrazio perciò per queste parole che avete detto, che mi hanno fatto conoscere Reggio e la sua diocesi. Dalle vostre parole ho conosciuto tante cose di Reggio e della diocesi. Reggio e la sua diocesi. Prendo canonicamente possesso di questa chiesa ora e divento parte di questo popolo e nuovo cittadino di questa città, la città del tricolore. Grazie di accogliermi come vostro cittadino. Su questa piazza c'è la cattedrale e c'è il palazzo del comune. Il nostro sindaco già ricordava tutta questa realtà e questa simbologia. È la traduzione urbanistica, questa compresenza tipica delle nostre terre e di tante parti d'Italia di un principio di distinzione e di collaborazione, che è una delle conquiste che l'Italia medievale e comunale ha regalato al mondo. Un'espressione visiva del principio che Gesù ha portato nella civiltà. Date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. È un principio che i popoli oppressi dagli imperi andavano cercando. In quelle parole di Gesù, date a Cesare ciò che è di Cesare, il volto di Cesare è stato per un piccolo tempo sulle monete ebraiche, ma a Dio ciò che è di Dio e cioè la vostra vita perché voi siete l'immagine di Dio, in quelle parole c'era la negazione di ogni pretesa degli imperi sull'uomo, la negazione di ogni teocrazia che pretende di anticipare in questo tempo la definitiva manifestazione del regno di Dio e impone forme di culto identificando comunità civile e religiosa. Da allora Gesù ha affermato per la storia questo principio laico della distinzione, ma in quelle parole c'era anche l'affermazione di una condanna della fede ridotta a credenza privata. Date a Dio quello che è di Dio, la vostra vita. Una fede ridotta a credenza interiore, nascosta, senza la tensione a esprimersi nella vita in ogni campo dell'umano. Se Dio è cancellato dalla vita siamo tutti perduti. La storia nel tempo si è incaricata di far emergere l'illuminismo che era racchiuso in quell'espressione di Gesù. Sì dunque alla laicità dello Stato che difende il diritto di ogni coscienza. No all'indifferenza delle leggi di fronte ai beni sacri della vita umana. La nostra terra è stata la terra in cui una donna all'inizio del secondo millennio cristiano ha lottato per la libertà della Chiesa dal potere imperiale. Battilde di Canossa è rimasta nei secoli il simbolo di questo desiderio di libertà della comunità cristiana. La libertà permette e favorisce il dialogo fra gli uomini. nella nostra regioni. Nella nostra regione si sono aperte strade di collaborazione fra la Chiesa e le istituzioni civili. Sono state citate e di ciò ringrazio le autorità. Espressione di questo sono le tante strutture educative e caritative messe a disposizione dei cittadini. Il desiderio di contribuire al bene della società civile si è reso visibile anche a livello culturale nella riflessione promossa dalla nostra Chiesa negli anni a noi vicini sul bene comune che è stato al centro di importanti convegni. La Chiesa non ha responsabilità di governo nella società civile, ma collabora efficacemente alla sua vita attraverso la rigenerazione della persona umana, nella fede, nella speranza e nella carità. Il cristiano rimane un peccatore, ma porta dentro di sé la tensione al cambiamento del proprio cuore e perciò dei rapporti con i propri fratelli, uomini e donne. E' questo il contributo più importante che la Chiesa può dare, il cambiamento del cuore degli uomini da cui nascono anche i cambiamenti nelle strutture. La continua generazione di un'umanità nuova è come una linfa vitale che dovrebbe irrorare i tessuti più nascosti della società civile. Egregio signor Sindaco e cara Presidente della provincia, offro tutta la mia e nostra collaborazione alle istituzioni civili, politiche e amministrative della nostra città e della nostra regione. Camminiamo insieme. A nome della Chiesa di Reggio Emilia Guastalla vi dico, nella fedeltà al Signore, nell'amore senza compromessi alla verità, vogliamo essere i collaboratori della gioia di tutti i nostri fratelli che abitano su questa terra. Grazie di cuore. Il Vescovo Massimo finalmente farà il suo ingresso nella sua cattedrale. Verrà accolto dall'Arcivesco Metropolita di Modena, il nostro Arcivesco Monsignor Lanfranchi e dal priore del capitolo Monsignor Marmiroli. Entrando bacerà il Vescovo Massimo, bacerà il crocifisso a noi più caro. Adesso ci fermiamo qua. E poi entreremo rispettando il fatto che verranno cantate le litene dei santi reggiani, quindi sarà un ingresso in preghiera silenzioso. Dietro il Vescovo ci saranno le autorità e poi i giovani a cui è stato riservato uno spazio. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Maria Assunta nella gloria del Cielo, pregare noi Maria Vergine della Chiara, pregare noi Maria Vergine della Fortà, pregare noi Angeli, ministri della gloria, pregato e verovi. Giovanni Battista, precursore di Cristo, pregato e verovi. Giuseppe, sposo della Vergine, pregato e verovi. Pietro e Polo, colonne della Chiesa, pregato e verovi. Voi tutti apostoli ed evangelisti, pregato e verovi. Maria Maddalena e voi testimoni del Risorto, pregato e verovi. Stefano e Lorenzo, diaconi che avete dato la vita per il Signore, pregato e verovi. Cresanto ed aria, uniti nel Martirio, pregato e verovi. Lucia e voi tutti, Santi Martire di Cristo, pregato e verovi. Carlo Borromeo, pastore illuminato e zelante, pregato e verovi. Andrea Carlo e voi tutti, pastori sapienti, pregato e verovi. Giovanni Paolo II, apostolo della nuova evangelizzazione, pregato e verovi. Venerio faro di sapienza, pregato e verovi. Francesco, poverello di Cristo, pregato e verovi. Caterina, serva di Cristo e della Chiesa, pregato e verovi. Gioconda, vergine fedele, pregato e verovi. Beata Giovanna Scopelli, donata allo sposo, pregato e verovi. Voi tutti che avete consacrato la vita al Signore, pregato e verovi. Voi tutti poveri e giusti, i cui nomi sono scritti nel libro della vita, pregato e verovi. Voi tutti santi e sante di Dio, pregato e verovi. In attesa dell'inizio della processione in Troitale ci possiamo accomodare. Approfittiamo di questo momento anche per qualche piccolo avviso che riguarda i canti che faremo nella celebrazione e che potete seguire grazie al libretto dove sono anche tutte le letture e le altre preghiere. Il primo canto verrà proposto dal coro, anche se ha un ritornello che è ascoltato una volta o due e dopo permette a chiunque di rispondere e di inserirsi, è un canto che anticipa le antifone maggiori d'avvento che saranno poi proposte dalla liturgia nei prossimi giorni, da domani fino alla visiglia di Natale. Il salmo responsoriale lo faremo in questo modo, canteremo subito tutti insieme dopo aver sentito la melodia del ritornello, appunto il ritornello, che poi il coro continua a cantare sottovoce, e possiamo anche unirci al coro però cantando sottovoce, mentre il solista canterà i versetti del salmo e alla fine di nuovo canteremo a voce piena il ritornello. Ecco, l'altra cosa che sottolineo è la professione di fede, per la quale noi canteremo il ritornello Credo Signore Amen, che verrà cantato una prima volta dal coro, poi lo ripeteremo insieme, mentre il testo della professione di fede verrà proclamato dal solo Vescovo Massimo. Noi ci uniremo alla sua professione di fede attraverso il ritornello cantato. In questa liturgia che abbiamo già avviato, invocando su di noi l'intercessione dei Santi, accogliendo il Vescovo Massimo che ci ha asperso con l'acqua a ricordo del nostro battesimo, la nostra chiesa di Reggio Emilia Guastalla accoglie con gioia il suo nuovo pastore che oggi inizia il suo ministero episcopale. Con lui accoglie con gioia anche quanti lo accompagnano, a partire dai familiari, dai sacerdoti e seminaristi della Fraternità di San Carlo Borromeo, dalle suore missionarie di San Carlo, dai tanti amici provenienti da ogni parte d'Italia. Vogliamo salutare e dire il nostro ringraziamento per la loro presenza agli eccellentissimi Vescovi che concelebrano questa Eucaristia, oltre all'Arcivescovo Metropolita di Modena, Monsignor Lanfranchi, al nostro Monsignor Lorenzo Ghizzoni, Arcivesco eletto di Ravenna, Cervia. Salutiamo il Cardinale Reggiano Camillo Ruini, l'Arcivescovo Emerito di Ferrara, Monsignor Paolo Rabitti e altri membri della conferenza episcopale della nostra regione, Monsignor Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini, Monsignor Gianni Ambrosio, Vescovo di Piacenza Bobbio, Monsignor Enrico Solmi, Vescovo di Parma. E, arrivato appena in tempo, dopo aver celebrato ieri l'ordenazione diaconale a Sappa, in Albania, il Vescovo Luciano Augustini, che rappresenta tutti i Vescovi delle nostre Chiese Sorelle, i quali hanno inviato messaggi di partecipazione. Con celebra anche Don Julián Carron, Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione. Sono in comunione con noi i Vescovi Emeriti Paolo e Adriano, che hanno assicurato la loro preghiera per il nuovo pastore, i tre monasteri di Clausura, di Correggio, Montecchio e Sassuolo, e tutti coloro che ci seguono tramite la radio e la tv diocesana. Grazie. Grazie. Ci siamo in piedi, iniziamo la nostra celebrazione. Grazie. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Tu sei la pietra d'angolo, sei pace per i popoli Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sapienza dell'Altissimo che esci dalla voca del Signor E domini suonirealtà con forza e suavità www.mesmerism.info O fidel di Israele che da robe tu parli con Mosè E al signor illi dai condonca La notte di la santità La notte di la santità La notte di la santità Rapp exports Grazie a tutti. 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 Ci possiamo accomodare. Grazie a tutti. 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 Possiamo accomodarci. Grazie a tutti. 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 di Pietro è un compito nobile e impegnativo, che non si può neppure concepire senza la presenza costante dello Spirito di Cristo. Lui è e sarà all'opera, nelle parole e nei gesti del Vescovo Massimo, mandato a insegnare, a santificare e a reggere il popolo santo di Dio, la comunità dei battezzati che è in questa terra. Oggi le viene infatti consegnata la Chiesa di Reggio Emilia Guastalla. Dico subito che non è una Chiesa senza volto, una storia, un'identità comunitaria, benché complessa e multiforme. Vorrei dirle, caro Vescovo Massimo, a nome dei cattolici reggiano Guastallesi, dei quali mi sento ancora parte, che oggi le viene consegnata una Chiesa che, dopo il Concilio, ha fatto innanzitutto una immersione nella parola di Dio e che ha visto i suoi presbiteri ordinati in questi quarant'anni formarsi nello studio teologico interdiocesano, grazie ad un ordinamento particolare, su una abbondanza di testi della Sacra Scrittura, letta, studiata, con maestri importanti e teologi seri. Qualcuno di loro è Vescovo e Cardinale. La spiritualità della maggioranza dei preti e dei diaconi, ma anche delle nostre comunità, ha questo taglio biblico. Le iniziative formative hanno questa attenzione. Le viene poi consegnata una Chiesa delle Missioni. Dopo i primi sacerdoti pionieri negli anni Sessanta, è stata fatta una scelta missionaria diocesana, che in questi quarant'anni ci ha legati alle chiese particolari del Madagascar, del Brasile, dell'India, del Ruanda, dell'Albania, qui rappresentata dal Vescovo di Sapa, Monsignor Luciano Augustini, con una presenza anche in Kosovo. Non solo sacerdoti, ma anche consacrati, sia donne che uomini, laici, giovani, coppie, famiglie, sono stati mandati, quasi sempre insieme, non separati, in piccole comunità missionarie. Le case della carità, i servi della Chiesa, Reggio Terzo Mondo, una ONG legata alla diocesi, quasi una cinquantina di presbiteri diocesani fidei donu, con mandati pluriennali, hanno fatto da riferimento per centinaia di volontari, oltre ai tantissimi che hanno fatto solo brevi esperienze estive. Sono sorti diversi gruppi missionari parrocchiali. Una Chiesa aperta al mondo, insomma, in contatto con una quindicina di chiese sorelle, con uno scambio di doni e di persone che ci arricchisce tutti. A questo si può aggiungere che negli ultimi dieci anni sono stati accolti in diocesi una quarantina di suore giovani dall'India e all'accoglienza si è unita l'integrazione degli immigrati cattolici ghanesi, albanesi, polacchi, ucraini di rito bizantino, filippini, dallo Sri Lanka, dal Burkina Faso e l'attenzione alle comunità ortodosse di lingua russa, di lingua rumena e con i copti egiziani, qui rappresentate anche dai loro pastori. Le viene consegnato anche una Chiesa che ha lavorato molto sulla catechesi e la formazione cristiana dei bambini, dei fanciulli, dei ragazzi, dei giovani, delle famiglie. Sono alcune migliaia i catechisti battesimali dell'iniziazione cristiana, gli educatori dei giovani, gli animatori d'oratorio delle nostre parrocchie. Essi, insieme ai ministri istituiti, ai ministri straordinari della comunione, ai membri dei consigli pastorali parrocchiali e agli appartenenti alle associazioni, danno concretezza alla collaborazione dei laici col clero nel forte impegno educativo della nostra Chiesa. La rete educativa delle nostre parrocchie conta su parroci e su diaconi, certo, ma sempre di più anche su di loro, sui laici. Ed è un settore in fase di rinnovamento, sia per la pastorale catechistica che per quella giovanile. Laici, in prima linea, sono anche quelli impegnati nei mass media, con il settimanale La Libertà, il sito internet, la radio e i servizi tv diocesani, e ancora quelli impegnati nella valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale, e quelli che hanno portato ormai a compimento la prima storia della diocesi. Le viene anche consegnata una Chiesa che ha valorizzato la liturgia come culmine e fonte della vita cristiana. I suoi vescovi, Monsignor Baroni, vescovo del Concilio, Monsignor Gibertini, monaco benedettino, Monsignor Caprioli, docente e presidente della Commissione Episcopale della CEI per la liturgia, hanno dato un grande rilievo alla formazione liturgica e all'applicazione della riforma conciliare. Inoltre, una formazione speciale l'hanno ricevuto i presbiteri e i diaconi ordinati in questi ultimi quarant'anni, che ha loro permesso di avere un approccio teologico, storico, patristico, ai tesori che la tradizione ci ha consegnato. Passati i primi anni del postconcilio, non abbiamo più visto particolari travisamenti né eccessi, ma anzi, una ricerca costante di approfondimento, con la formazione di molti animatori, non solo sulla musica e il canto per la liturgia, grazie all'Istituto Diocesano dal 1976 e alla rivista Celebrare Cantando del 1993, ma anche sui contenuti teologici, spirituali e normativi della liturgia. La spiritualità liturgica, come quella biblica, e l'ansia missionaria hanno dunque segnato in profondità la nostra Chiesa. Le consegniamo oggi anche una Chiesa della Carità, questa mattina lo abbiamo visto, che ha avuto sì dei personaggi con forti carismi, dei fondatori, ma che ha adottato in generale una pastorale caritativa con una serie di opere che la caratterizzano rispetto alle altre Chiese. Le case della Carità, che insieme con i servi della Chiesa, le missionarie francescane del Verbo Incarnato, le piccole figlie di San Francesco, tutte forme di vita consacrata nate qui, negli ultimi cinquant'anni del secolo scorso, hanno gettato un seme fecondo. Ora, la Caritas Diocesana, di cui oggi, terza domenica di Avvento, si celebra la giornata in tutte le parrocchie, le Caritas parrocchiali o interparrocchiali con i loro centri di ascolto, come pure il consultorio familiare e le strutture del CEIS, formano una rete sul territorio che sostiene fragilità e bisogni di moltissime persone, diffondendo il Vangelo della Carità, non solo con i gesti, ma anche con il dialogo e l'annuncio ai più poveri, ai carcerati, agli immigrati, alle donne sfruttate, alla vita nascente quando è messa a rischio, ai nuovi poveri frutto della crisi economica. Quella caritativa è una quarta dimensione che marca la nostra spiritualità diocesana. Con una specificità, la spiritualità caritativa, oltre a quella biblica, liturgica e missionaria, sono legate insieme nel nostro sentire ecclesiale. Parola ed Eucaristia, missionarietà e carità sono percepiti come un unico dono impegnativo che viene dalla presenza in essi dell'unico Signore, Gesù Cristo. E' inoltre una Chiesa, la nostra, che tra le prime in Italia ha valorizzato il ripristino del diaconato nella sua valenza di servizio ecclesiale nell'ambito della formazione degli adulti e delle famiglie, negli ambiti delle povertà, dei gruppi di ascolto della parola nelle case e nei quartieri, nella predicazione e nelle liturgie in attesa di presbitero, nelle attività organizzative e amministrative parrocchiali e diocesane. Il tutto con la forza che viene loro dal sacramento dell'ordine e con la stabilità di un impegno che coinvolge anche le spose e le famiglie. Negli anni si è andata approfondendo la formazione specifica e il coinvolgimento diocesano, secondo l'antica formula per la quale sono i diaconi, sono ordinati non ad sacerdozium, sed ad ministerium episcopi. Sono divenuti operatori importanti della nostra pastorale parrocchiale e diocesana. La loro presenza quantitativa, ormai quasi pari a quella dei parroci, li porterà ad essere il secondo braccio del Vescovo, oltre al presbiterio. La nostra Chiesa viene anche da un passato recente di apostolato associato, dove l'azione cattolica, la Gesci, le associazioni legate agli ambiti di impegno lavorativo o professionale, alcuni movimenti ecclesiali e qualche realtà associativa nuova appena riconosciuta, hanno svolto un grande ruolo di formazione e mobilitazione dei laici nel campo della politica, dell'impegno sociale, nel mondo del lavoro, oltre che all'interno delle comunità parrocchiali. Ora, questo mondo affronta una evoluzione che ha cambiato i modi e le vie della formazione degli operatori pastorali e anche dell'impegno dei laici nel mondo. Ne abbiamo ancora bisogno, anzi, nell'attuale situazione di frammentazione e discontinuità, la formazione e l'azione, a partire da punti fermi sui quali impegnarsi collettivamente e non solo come individui o piccoli gruppi, sono davvero necessarie. infine le viene consegnata una Chiesa che ha spostato in questi ultimi tempi l'impegno dei cattolici più sul campo caritativo e sociale, soprattutto quello sanitario, assistenziale, scolastico, verso i piccoli, gli anziani, i poveri, gli immigrati, nelle associazioni, nelle cooperative sociali, nelle fondazioni, nei sindacati, rispetto all'impegno più direttamente politico, senza però rinunciarvi. Infatti, dopo gli anni della dura contrapposizione, con alcune azioni durante e dopo la guerra violente e politicamente insensate, sono venuti anche i tempi della partecipazione più diretta alla gestione dei comuni e della provincia e per qualcuno anche della regione e dello Stato. I cattolici sono presenti oggi in tutte le amministrazioni, ma anche nelle opposizioni. L'unità sui punti fermi della dottrina sociale cristiana e sul dovere di praticare l'arte politica solo dopo una formazione culturale e spirituale significativa, sono aspetti sui quali abbiamo iniziato a lavorare insieme, pastori e laici, ma resta ancora molto da fare. In conclusione, le viene consegnata una Chiesa che ha cercato davvero di obbedire ai segni dei tempi, alle richieste dei suoi pastori, soprattutto accogliendo il Concilio Vaticano II, per riformarsi e crescere. clero e laici, consacrati e ministri, parrocchie e associazioni, recependone i contenuti e lo stile ecclesiale, a partire da un lungo sinodo diocesano del quale proprio quest'anno ricorre il venticinquesimo, e tentando di incarnare qui, in mezzo al popolo reggiano e guastallese, quella fede che per sedici secoli i nostri padri hanno trasmesso. Questo deposito, ora, è nelle sue mani e nelle nostre mani, Vescovo Massimo. Lo Spirito di Dio ci aiuti a custodirlo con una sana fedeltà creativa. Grazie. Grazie. Applausi. Eccellenza. Noi fedeli di Reggio Emilia Guastalla oggi esultiamo per il dono che il Signore ci ha riservato nella sua persona e ci sentiamo veramente chiesa attorno a lei, memori delle parole di Sant'Ignazio ai fedeli di Smirne, dove compare il Vescovo, là sia la comunità, come là dove c'è Gesù Cristo, Ivi è la Chiesa Cattolica. La sua presenza ci suona come un'esortazione ed un incoraggiamento a confermare l'adesione convinta alla fede consegnataci dagli Apostoli, a farla vivere attraverso le nostre persone in tutto il territorio della Diocesi dal quale ci presentiamo a lei, diversificati per tanti tratti peculiari che ci caratterizzano dal Cusna al Po, per tante storie particolari, inseriti però nella vicenda complessiva di queste nostre zone, comune a tutti noi e con un atteggiamento che oggi riscopriamo unanime, il desiderio di innestare la nostra vita personale e pubblica sul fondamento di Cristo. Di noi, chi ci conosce per vicinanza geografica, spesso afferma che siamo laboriosi ma caparbi, e chi ci ha amministrato nei secoli passati ci ha definiti gente difficile e talora irriducibile. Le vicende storiche sono eloquenti in sé stesse, ma proprio nella storia si legge che noi reggiani abbiamo avuto la città salva per la preghiera del Vescovo Prospero e la mediazione di Maria, Madre del Signore, alla quale con fede ci siamo affidati e di cui il Tempio della Ghiara si innalza a ricordo perenne e grato. Oggi vogliamo affidare alla sua guida proprio i tratti salienti della nostra indole per farli tendere verso le mete che il Signore ci mette dinanzi. Siamo qui ad esprimere le fiducia filiale e a chiederle come figli che la sapienza paterna, paziente e ferma che il Signore le ha donato, possa motivare le energie della Chiesa reggiana e convogliarle a risposte appassionate ed obbedienti alla volontà di Dio. Siamo qui a esprimerle il nostro affetto sostanziato dalla comunione nella quale l'Eucaristia ci inserisce, ma anche dal profondo desiderio di condividere la vita del nostro prossimo futuro comune. Le rivolgiamo il benvenuto come assemblè dei fedeli in Cristo, unita a quanti non si riconoscono in questa appartenenza, ma con i quali condividiamo il percorso della vita terrena. Il desiderio di un infinito che riempia il cuore e la tensione a sperare. Ci rivolgiamo a Lei anche con le parole di chi non può essere qui per difficoltà o sofferenze di ogni genere, chiedendo al Signore di poter vivere nell'autenticità e in qualsiasi condizione ci sia riservata la comunione con Lui e tra noi, la partecipazione al mistero di salvezza. La liturgia di oggi ci mostra Giovanni, precursore di Cristo, interrogato dalle folle, dai pubblicani, dai soldati. Potremmo dire che tutta la società civile del tempo si lascia interpellare dall'imminenza della venuta di Cristo. Anche noi siamo quindi tra quelle persone. Anche noi sentiamo nel cuore il desiderio di giustizia che possa condurci alla pace, il desiderio di una logica nuova frutto dell'amore. Anche noi chiediamo al Signore che viene e noi che cosa dobbiamo fare. E accanto a lei che il Signore ha fatto giungere nella Chiesa di Reggio proprio in questo periodo d'avvento, chiediamo di poter camminare incontro al Signore che viene, docili al fuoco dello Spirito, ardenti nella fede e nella carità. Benvenuto, Eccellenza. Il Signore la ricolmi di grazia e di gioia e l'abbraccio di questa Assemblea sia la partenza per un cammino di profonda comunione. Il Vescovo Massimo riceve ora il saluto di una rappresentanza di tutte le componenti della nostra Chiesa, il Collegio dei Consultori e i vicari episcopali, i vicari foranei in rappresentanza del clero e dei fedeli degli undici vicariati, il segretario del Consiglio diaconale con un altro diacono con incarichi diocesani, il segretario dei religiosi in rappresentanza anche degli istituti secolari, la segretaria delle religiose, la segretaria del Lordo Virginum a nome della vita consacrata, un seminarista, la segretaria del Consiglio pastorale diocesano, il segretario della consulta delle aggregazioni laicali, il segretario della Caritas e la Presidente della Mensa del Vescovo, una famiglia in cui lo sposo e papà diventerà diacono il prossimo 13 gennaio insieme ad altri dodici, una rappresentanza delle case della Carità, una rappresentanza dei Cresimandi e dei Catechisti della Iniziazione Cristiana. Accompagniamo questo momento con il canto del Salmo, il Signore è il mio pastore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su posto gli erbosi il Signore mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore di Niziazione Cristiana. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Se dovessi camminare in una palla oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Avanti a me, tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Settiamo i piedi. Preghiamo. 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 Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi Fratelli, siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Parola di Dio Grazie. 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 Il Cristo, quando verrà, vi battezzerà in spirito santo e fuoco. Alleluia! 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 Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria al vero Signore! Alleluia! 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 Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero Maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogarono anche alcuni soldati. E noi, che cosa dobbiamo fare? Rispose loro Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguarda Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo. Giovanni rispose a tutti dicendo Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in spirito santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare i poveri il lieto annuncio. Alleluia 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 Grazie a tutti. 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 Avrò modo poi, in questa vita, che spero lunga, reggio, di poter conoscere personalmente ciascuno di voi. Soprattutto di conoscere subito, presto e bene i miei collaboratori della Curia e i collaboratori degli uffici pastorali. Questa mattina ho iniziato l'ingresso in questa chiesa in un modo forse un po' inconsueto, ma per me molto significativo. Sono stato all'ospedale psichiatrico giudiziario e ho detto, fra l'altro, queste parole. Io vengo qui perché il Vescovo è colui che Cristo manda per cercare ogni uomo, per andare dall'uomo solo, dall'uomo malato, dall'uomo disperato, dagli sconosciuti del dolore. E' questo orizzonte totale che sento come orizzonte più vero della mia missione qui tra voi, a credenti e non credenti, a giovani e ad adulti, a uomini e a donne, a uomini e donne nati in questa terra o qui sopravvenuti per ragioni di lavoro o di fuga dalle loro terre. A tutti il mio saluto. Sono stato poi al centro della Caritas, alla mensa e al poliamburatorio. E' stato per me un altro incontro significativo. Ho voluto dire un'altra parola sulla missione del Vescovo. Il Vescovo viene per tutti gli uomini e viene più precisamente per curvarsi sui poveri. Non perché in essi veda Cristo, ma perché essi sono Cristo. Questa è un'altra ragione profonda del mio essere qui in mezzo a voi. Sono stato poi nella casa del clero inabile e infermo, presso la casa San Giuseppe di Montecchio, dove abitano, dove vivono alcuni sacerdoti anziani della nostra Chiesa e fra loro il Vescovo Emerito Paolo G. Bertini. Ho voluto con questo radicarmi dentro la vita della nostra diocesi, che so, come ho ancora ascoltato ora, una vita ricca di iniziative, ricca di storia, ricca di personalità significative. E con questo ho voluto onorare anche i due Vescovi Emeriti viventi e anche i Vescovi precedenti, che hanno dato così lustro e vita a questa nostra diocesi. Poi sono entrato più direttamente attraverso la porta che è Maria, Iannua Cieli. Ho pensato che il mio primo dovere di Vescovo fosse di onorare la madre e di chiedere a lei tutte le grazie necessarie per questo ministero, ma soprattutto per questa Chiesa, per le famiglie, per i giovani, per tutti, insomma. Ho invitato poi i giovani lì presenti agli incontri che terrò qui in cattedrale durante la Quaresima. E ora, cari fratelli e sorelle, il Signore mi dona la grazia di fare l'ingresso nella diocesi che Gesù mi ha affidato, attraverso il mandato del Papa, nella Domenica Gaudete, nella Domenica della Letizia, della Gioia. Proprio la gioia è la nota principale delle letture che abbiamo ascoltato, anche del Vangelo, che esplicitamente non parla di essa, ma parla di evangelizzazione, cioè di una notizia che è fonte di esultanza. E qual è questa notizia? Gesù sta per arrivare, lo dice il Battista, e poi anzi dice è arrivato, è qui, è vicino. Ve lo ripeto, state lieti, il Signore è vicino. Ci troviamo così nel cuore dell'Avvento, che è attesa e preparazione e infine scoperta di Gesù presente. Ma ci troviamo anche in questo modo nel cuore stesso del Ministero del Vescovo, nel cuore del Ministero di ogni sacerdote, di ogni cristiano, di tutta la Chiesa, fare esperienza della presenza di Gesù e rivelarla al mondo. Questo è lo scopo della Chiesa, questo è lo scopo di ogni vita cristiana, fare esperienza della presenza di Gesù e rivelarla al mondo. Se non c'è esperienza attuale, viva, della persona di Gesù, non possiamo essere trasparenti di nulla. Sono venuto per questo, oserei dire solo per questo, per fare con voi esperienza della presenza di Gesù e con voi rivelarla al mondo. Che cosa occorre al Vescovo? Che cosa occorre a voi, a voi preti, a voi religiosi, a voi laici, per vivere questa esperienza, per scoprire le tracce di Dio presente e mostrarle agli uomini? Permettetemi di dirlo adesso almeno brevemente, almeno attraverso qualche accenno. La Catechesi che farò in questa Cattedrale durante l'anno, nelle festività principali, verterà proprio su questo, scoprire in Gesù le tracce di Dio e mostrarle agli uomini. Ma adesso vorrei soltanto dire tre parole. Che cosa occorre? Occorre silenzio. Occorre preghiera. Occorrono compagni di viaggio. Occorre innanzitutto silenzio. Perché la moltitudine di parole e di immagini da cui siamo circondati, per questo, anche se fugacemente, questa mattina sono stato in un monastero, nel monastero delle Serve di Maria, per imparare il silenzio. La moltitudine di parole e di immagini non cancelli in noi la possibilità di vedere e di udire. Alla radice del cristianesimo sta questo sguardo nuovo, questa capacità di silenzio, perché Dio agisce nel silenzio e soltanto nel silenzio lo si può percepire. Solo un'educazione dello sguardo e del cuore può ridarci la capacità di innamorarci della verità, della bellezza, della giustizia, del bene, che sono tutti nomi di Dio. Silenzio per ascoltare la voce di Dio che parla. Egli parla in molti modi. Parla attraverso la Chiesa, nella sua scrittura. Parla nei sacramenti. Parla nel Magistero. Parla nella vita dei Santi sulla terra e in cielo. Parla sempre attraverso suo Figlio e lo Spirito. Occorre poi la preghiera, cioè il riconoscimento semplice che siamo creature, che siamo bisognosi di Dio, quel Dio che ci ha creati perché ci ama, che ci ha salvati gratuitamente, senza nessun nostro merito, perché il suo amore non è fermato dal male. Senza Dio si spegne la luce nella vita dell'uomo. Sono parole di Benedetto XVI. Senza Dio la vita dell'uomo diventa incomprensibile e perfino talvolta insopportabile con tutto il carico di ingiustizie che essa comporta. Siamo nell'anno della fede. Vorrei aiutarvi a scoprire Dio. Vorrei scoprirlo io con voi. Vorrei farlo scoprire a chi non lo conosce. Vorrei aiutarvi a scoprire il Padre, colui da cui veniamo, a cui andiamo, colui che guida la nostra vita senza sostituirsi alla nostra libertà, ma che è provvidente e misericordioso. Dio, Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dal silenzio e dalla preghiera scaturiranno poi il desiderio di conoscere e la conoscenza effettiva. Vorrei riprendere in mano con voi il Catechismo della Chiesa Cattolica e i documenti più importanti del Concilio Vaticano II. Certamente in molte parrocchie e comunità già lo si sta facendo. Durante l'anno liturgico, come ho detto, lo farò commentando i misteri della vita di Gesù, anche accompagnato da questi testi. La preghiera e il silenzio trovano nella celebrazione della Messa la loro massima espressione settimanale. Desidero vivere con voi la liturgia, avendo come stella polare l'insegnamento del nostro Papa Benedetto XVI. celebrare con sobrietà, con dignità, senza protagonismo, lasciando a Gesù e alla sua opera il centro della scena. Voi direte, ma se quest'uomo vuole pregare, vuole studiare, vuole predicare, vuole celebrare l'Eucarestia e magari vuole anche privilegiare i rapporti diretti e personali, vuole incontrare la gente, come farà? Chiedo a Dio la grazia di un carico amministrativo leggero, di ridurre all'essenziale le riunioni, gli incontri di rappresentanza, i convegni. Dio mi aiuterà. Senza dimenticare nessuno vorrei dedicare tempo ed energie, come ho detto, ai preti, ai giovani, alle famiglie. Contro di incontrare i preti riuniti per zona entro giugno. I giovani, durante la quaresima, come ho accennato, le famiglie, nelle mie visite alle parrocchie, ma già domenica 30 dicembre, qui in cattedrale, nei vespri della Sacra Famiglia. Ho detto, infine, che occorrono i compagni di viaggio. Dio ci chiama personalmente, ma non ci lascia individui isolati, chiusi in un dialogo intimistico con Lui. Dio ci chiama per far parte del suo popolo e il suo è un popolo eucaristico, formato da tante comunità radunate attorno al Vescovo, nell'obbedienza al suo ministero e in comunione col Vescovo di Roma. Compagni di viaggio sono tante persone a cui la nostra vita è legata e come consegnata nella comunione cristiana. Penso alle famiglie, alle parrocchie, alle comunità religiose, sacerdotali, agli istituti religiosi, alle compagnie vocazionali, alle amicizie cristiane, alle associazioni, ai movimenti, alle comunità laicali, insomma, a tante e tante diverse forme canoniche ed esistenziali, ma che sono l'espressione di un unico principio. A Dio si va come membra del suo popolo, pellegrino nel tempo verso l'Eterno. Dobbiamo riscoprire assieme, cari fratelli e sorelle, la bellezza e la fecondità della nostra appartenenza ecclesiale. È tempo ora di proseguire la nostra liturgia. Vorrei ritornare alla parola dell'inizio. La Chiesa ci invita alla Letizia. Ma è possibile l'esperienza della Letizia nel nostro tempo, nelle nostre condizioni di vita? Rifletteremo e ritorneremo molte volte su questo. È possibile quando il nostro cuore è occupato dalla realtà del dolore, della fatica, dell'assenza di lavoro, quando siamo terremotati, quando siamo soli, quando tutto sembra perdere valore. Dobbiamo tornare a riconoscere la realtà annunciata dai profeti e dall'Apostolo. Dio si è fatto uomo per esserci vicino, per essere incontrabile, per essere familiare. Non angustiatevi allora, ma fate presenti a Dio le vostre necessità. Il Signore ha revocato la nostra condanna. Non temeremo più alcuna sventura. Chiesa di Reggio Emilia Guastalla, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente, esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore. Diciamo perciò assieme mia forza e mio canto è il Signore. Amen. Grazie a tutti. Fratelli e sorelle, il Santo Padre Benedetto XVI ci ha esortati in questo anno a confessare la fede nelle nostre cattedrali e nelle chiese di tutto il mondo, nelle nostre case e presso le nostre famiglie, perché ognuno senta forte l'esigenza di conoscere meglio e di trasmettere alle generazioni future la fede di sempre. nella gioia dello Spirito uniti al nostro pastore rinnoviamo la professione della fede ricevuta fin dal battesimo. e di trasmettere alle generazioni credo, Signore, amm... io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. credo, Signore, amm... credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. credo, Signore, amm... credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna, amm... credo, Signore, amm... questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù, nostro Signore. Amm... Carissimi, in ogni tempo Dio dona energie nuove alla Sua Chiesa, con fiducia innalziamo la nostra preghiera per il cammino che ci attende, chiamati a collaborare ciascuno con tutte le forze all'edificazione del Regno. Preghiamo! Ascoltaci, Signore! Per la Chiesa di Dio, che in ogni parte della terra ove diffusa sta celebrando l'Anno della Fede, sotto la guida paterna di Benedetto XVI, risplenda davanti agli uomini per la fermezza della fede in una speranza inestinguibile e nella testimonianza di una carità senza limiti. Preghiamo! Ascoltaci, Signore! Per il Vescovo Massimo, chiamato a presiedere la Chiesa di Reggio Emilia e Guastalla, Dio lo sostenga col suo amore perché ci edifichi con la parola e con l'esempio il popolo a Lui affidato e possiamo giungere insieme alla vita eterna. Preghiamo! Ascoltaci, Signore! Per i presbiteri e i diaconi, per i consacrati e i missionari, per i seminaristi, di spose e le famiglie, per coloro che offrono preghiera, tempo ed energie a servizio delle comunità cristiane, in particolare, per i nostri monasteri di Correggio, Montecchio e Sassuolo, perché la nostra Chiesa cresca nella ricchezza dei doni dello Spirito e nelle vocazioni di cui abbiamo bisogno per un rinnovato annuncio del Vangelo oggi. Preghiamo! Ascoltaci, Signore! Per la pace del mondo intero e la salvezza di tutti gli uomini, per la giustizia e l'amore nella vita sociale, per la concordia e la fiducia reciproca fra tutti gli uomini creati a immagine di Dio e chiamati nel suo regno. Preghiamo! Ascoltaci, Signore! Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito, in particolare per quanti il Vescovo Massimo ha incontrato stamane nei suoi primi incontri in Diocesi, i ricoverati dell'OPG, quanti sono accolti nella mensa Caritas, i sacerdoti anziani ammalati della casa del clero a Bontecchio, perché tutti abbiano gioia e consolazione e perché, sollecitati da questa Domenica della Caritas, impariamo a farci prossimo del fratello, a prenderci cura del bisognoso. Preghiamo! Ascoltaci, Signore! Per tutti noi, qui raccolti nella Cattedrale, intorno alla Parola e all'Eucaristia, sotto la Presidenza del Vescovo Massimo, perché il mistero di salvezza che stiamo celebrando ci colmi di gioia e ci spinga a testimoniare il Vangelo ai vicini e ai lontani, nella nostra terra e in ogni parte del mondo. Preghiamo! Preghiamo! Ascoltaci, Signore! Padre, nella Tua immensa benevolenza hai scelto il Tuo servo San Prospero e lo hai costituito pastore del popolo reggiano, donando prosperità e pace, come per un dono del Tuo amore lo hai fatto risplendere nelle parole, negli esempi e in tutte le virtù necessarie per degnamente servirti. Ora, per Sua intercessione, donami la grazia di compiere fedelmente il Ministero Episcopale per questa Chiesa che oggi mi hai affidato. Per Cristo nostro Signore. Amo! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti